Ciao ragazzi, sono Cioro Fisico, oggi siamo qui con MontiCraft. Andiamo... A... Oggi vorrei dare a vedere... Sì, lo so, lo so. Lo so. Lo so cosa fa, tu ci metti un coso e poi lo sputa. Tipo. Allora. No, sì, ok. Andiamo a vedere il castello. Perché praticamente c'è un castello qua vicino che non è quello di solito, è un altro. Ok, andiamo. Però questo lo possiamo che tirai giù. Ok, andiamo. Ok, è note. Mangiate. Aspetta. Però ho patate. Prima! Qui. Qui. Ok. Tante. Qui. Ok. Io voglio vedere quel castello, anche se è notte. Però è meglio torciarlo un pochino qui, perché sennò poi si fa uno troppo i mostri. Ok. Ok. Ops. È notte. Sì, questo lo sapevo che è notte. Boh. Ok, lasciamo perdere, va? Vabbè. Io scavo. Sempre ragazzi, io scavo sempre perché finché non trovo il diamante non mi trovo, non sono soddisfatto. Wow. Sento zombie. Sento zombie. Sento zombie. Sento zombie, sempre, sempre, sempre. E ora vado a scavarli qua. Ferro, ferro, ferro. Mi è caduto, è stato ucciso da Enderman. Penso che dobbiamo tornare su e prendere le sue cose. Ma perché dovevi andare contro un Enderman? Sì, abbiamo un'armatura di ferro completo entrambi, però non è che sia una grande idea. Ok. Andiamo a cercare le sue cose. Dove saranno? La roba è fuori casa. E questo lo sapevo. Ah, ecco qui. Ok. Oddio! Ha una pioma! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ok. Ok. Io riuscirò nell'empresa che lui è fallito! Aia! Forse no. No! Sì, invece. Ho un Ender Pearl. E dovrei entrare in casa. Ok. Sì. E vai! Sì! Ok. Che bugie! Ci sono! Non si vede! Ho preso tutto. Ok. Adesso metto tutto dentro la cesta perché io sono pieni e devo andare a scavare. E basta con spicosi quei zombie. Direi che queste sono le sue cose. E ora ritorno a scavare. Ragazzi, uno ha trovato una caverna ma questo non è importante. Quello importante è che lui è caduto nel canyon nella safe zone. Nella zona dove non si può costruire e soprattutto non si può morire. Quindi lui è intrappolato lì. Aspetta, forse c'è un modo. Forse c'è un modo anche per me per sopravvivere qui sotto, no? Forse. Siamo in posizione... No. Posizione video. Dov'è? Dov'è? Vabbè, chissene, facciamo così. Dov'è mettere un casino di torci. Non ci verrà nulla proprio. Funghi. Ok, devo tornare a dire quanto fa. Aspetta, che ha detto? Ehm, ora che faccio? Eh, non lo so che qua può fare. Ok, io continuo a ricercare il diamante. Lui intanto caspiterina si è intrappolato nella safe zone. Ok. Entra e riesci. In teoria, eh? Non in teoria. Poveretto. E' successo una volta anche a me, ci ha messo un casino di tempo per riuscire a riuscirci. Non in questo survey, non altro. Caspiterina. 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 No, qua c'è già stato qualcuno. Mamma mia. Sì, qua c'è già stato qualcuno di sicuro. Guardate quanta terra che hanno visto. Eh, non credete che ci siamo diamanti qui allora. Oddio. Certo. Non c'è a apostolo. Cioè non ho niente da fare. Ok. Attimo metto in un luogo sicuro e poi in palio. Caspiterina mi dispiace. Che è successo anche a me una volta, eh? Ve l'ho già detto, eh. Vi ho già detto sì, ma... Dopo qualcosa non mi è successo non ho più potuto giocare col server. Sì, va... Perché ero rimasto intappolato lì Adesso lo vedo che capita solo il bacio Vabbè io il ferro lo prendo Bedrock di nuovo ragazzi Bedrock di nuovo Allora ragazzi io ho scavato Oltre che hanno altavato il diamante Mecca ci ha scontillato l'interpolato là E nessuno sa come fare a tirarlo fuori Perché è un casino di persone Hanno cercato di capire Cercato di Cercato di capire come tirarlo fuori Ma alla fine nessuno lo riesce a capire E un tizio ha detto che vuole disperatamente Qualche amico quindi adesso Prima metto in posizione qui Quelle parte E poi gli dico le coordinate per arrivare a casa nostra Perché è da dire ore che continua a dire Qualcuno vuole essere mio amico Quindi gliele dico Ecco gliele ho detto Wow Ok ce la faccio E io Prima Devo cercare di capire come ce l'ho qui Scusami Che ci sono Allora Mi dispiace Ma io non so proprio che cosa fare No dai ancora zombie E basta Questo mi rifugio Sì questo mi rifugio Ancora? Ok qua ci bisogna mettere un po' di torcia Oddio qua avevo chiuso io Che cosa serve sta roba qui? Ok ragazzi Allora Purtroppo io adesso devo andare Quindi Ah si Comunque adesso devo andare Quindi Un attimo voglio vedere un secondo Perché ci sono delle Molte mucche qui Voglio uccidere un pochino Mischio lilla ma Ma che aspetta Si fa uscire da un canio nella zona safe Si uccisa da solo E mi sono fatto male Vabbè ragazzi raggiungo il castello Voglio vedere un secondo se arriva Maxime Se non arriva ci salutiamo Comunque ci salutiamo in ogni caso Ah spero che ovviamente non ci si Non ci sono Mentre tutto riesco a uscire da lì Mi spiace proprio tanto per lui Secondo me è un po' l'ho accettinata A fare la zona safe Non c'è nessun Perché Per le cose che accadono sempre Come quelle in questo Uh con un giorno ci dovremmo andare Per le cose che accadono praticamente sempre Come quella che è appena accaduta Non è vero che Non è caduta Dovevo togliere Non tempo ne esisteva in questo server Ancora prima che iniziassi La serie di multicraft Qualche volta ce l'avevo giocato prima E non c'era Comunque C'è una pecola sul tetto Fantastico Entriamo in casa Mentre qua c'è il ferro Ci salutiamo ragazzi Uh masterhand Comunque mi dispiace Non averti avvisato in tempo per questo La prossima volta Spero che tu possa venire Ci incontriere naturalmente Nella casa qui E quando verrai Ti darò il ferro Todi che ti può fare L'armatura Va bene Quindi la metto a cuocere Anzi Questa è la mia casetta Ti incontrieremo il nome qui Ma nella casa di sopra Va bene ragazzi Questa era multicraft E ci vediamo Nel prossimo episodio Grazie a tutti Grazie a tutti.